Grazie, grazie. Sì, come diceva la professoressa, è chiaro che in un'ora e mezza non è che vi posso dare la conoscenza del diritto d'autore, che è una materia abbastanza complessa e ampia. Non avete neanche la forma mentis tipica del giurista, quindi io le slide le ho impostate in modo abbastanza semplice, abbastanza efficace a livello grafico. Allora, a livello grafico le mie capacità grafiche, come vedrete, non è che sono praticamente raffinate, però ci sono delle immagini che vi evocheranno un po' di concetti. E ho ridotto al minimo la parte di norma giuridica, quindi avremo degli articoli che vi farò vedere, giusto per capire di cosa si occupa il diritto d'autore, ma il resto saranno appunto immagini, schemi, slide abbastanza sintetiche, abbastanza rappresentative di concetti più che di norme. Sì, diciamo che io, nonostante venga da uno studio classico di giurisprudenza, ancora vecchio ordinamento, quindi quattro anni, poi ho fatto una seconda laurea in scienza della pubblica amministrazione, ma un dottorato in società dell'informazione, quindi era un dottorato un po' particolare, adesso non esiste più, purtroppo l'hanno fatto accorpare dalla scuola di dottorato in altre materie. Però ecco, era un dottorato interdisciplinare, quindi avevo a che fare spesso con i letterati, con gli umanisti in generale, ma anche i sociologi, gli esperti di comunicazione. E quindi, diciamo, normalmente mi riconoscono di riuscire a parlare con un pubblico che non è strettamente di giuristi e farmi capire. Spero che succeda anche oggi così. Abbiamo detto fino alle 10.10, vero? Ok, così mi regolo. Voi, se dovete farmi domande, non fatevi problemi, interrompetemi pure e cerchiamo di dialogare, di renderla meno frontale possibile. Come diceva la professoressa, il tema del diritto d'autore fino a un po' di anni fa effettivamente veniva lasciato ad alcuni operatori del settore delle produzioni culturali molto, molto, inteso in senso molto classico. Quindi gli editori, a parte gli avvocati che si occupano di questa materia, ma poi gli editori, i produttori discografici, gli autori professionisti e via dicendo. Quindi archivisti, bibliotecari, esperti di comunicazione, figure che normalmente non se ne preoccupavano. Adesso con il nuovo contesto di comunicazione, di informazione che abbiamo, diciamo, con il mondo digitale, con la rivoluzione digitale negli ultimi 15 anni, tutte queste figure in realtà vengono investite dal problema del diritto d'autore. Perché in qualche modo ci, come dire, incrociate il terreno, organizzate l'evento culturale, dovete fare la locandina. L'altro ieri abbiamo fatto questo convegno, però prima del convegno ci hanno intervistati lì sotto per fare un piccolo video che andava sul sito dell'università, sui canali social dell'università. Abbiamo firmato una liberatoria per dire che la nostra immagine poteva essere utilizzata. E ce l'hanno fatta firmare due responsabili della comunicazione, che sono due giornaliste, che quindi probabilmente hanno una formazione più simile alla vostra, più tipicamente umanistica e non da giuristi, no? Quindi vedete come, appunto, figure che normalmente non se ne occupavano, adesso sono chiamate a occuparsene. Io stesso, io faccio, oltre a fare l'avvocato in senso di consulenza classica, contrattuale, quindi sostanzialmente, mi trovo spesso a fare formazione, quindi corsi di aggiornamento professionale, e la categoria che me ne chiede di più è proprio quella dei bibliotecari e degli archivisti, ultimamente. non so se è perché ci sono concorsi in ballo, però normalmente sono, discutevamo l'altro giorno del fatto che invece i giornalisti sono latitanti su questa materia e non si capisce come mai, perché adesso proprio la direttiva di cui, non so, a loro c'erano, sono tra il gruppo che c'era a seguire, no, un altro gruppo, non sono venuti, ok, vi siete persi una cosa che, peccato, adesso avremo i video e vi sarete obbligati a seguirli, perché verranno chiesti all'esame, no, classico metodo. No, abbiamo parlato di questa nuova direttiva che oggi vi accenerò giusto nell'ultima slide, perché non riusciamo ad arrivare a un livello così verticale. Abbiamo parlato di questa nuova direttiva che crea dei nuovi diritti, direttiva europea che crea dei nuovi diritti, proprio a favore degli editori di giornali, e quindi ovviamente c'erano un rappresentante degli editori in senso generale dell'AIE, l'associazione italiana di editori, ma poi c'era un giornalista che aveva fatto un intervento, insomma, anche abbastanza infervorato su la tutela dei diritti del mondo dell'informazione, del giornalismo. E poi, come vedrete, c'è, in questa direttiva, appunto, in quest'ultima slide che vi farò vedere, qualche novità proprio per il mondo degli archivi, che vengono inseriti in una definizione più ampia di enti di tutela del patrimonio culturale. Vabbè, dopo ve lo farò vedere. E in questo convegno c'è stato l'intervento, ovviamente in un convegno di tre ore, anche lì non puoi coprire tutti i temi della direttiva, però c'è stato l'intervento di una giurista che adesso sta in Scozia, che ha parlato del cosiddetto text and data mining, cioè in inglese estrazione di, no, mining, da miniera in realtà proprio, quindi estrazione di testo e dati da opere dell'ingegno, da opere creative, e quindi un nuovo diritto, tra cui appunto ci sono delle regole nuove proprio per chi fa attività di ricerca scientifica, di archiviazione e di conservazione del patrimonio culturale. Quindi cose che dovrebbero in qualche modo incrociare il vostro terreno. Vado con le slide. Faccio prima condividi schermo, immagino. E faccio tutto lo schermo. Sì. E poi... Ok. Io qua però preferisco andare a schermo intero, cioè... Così. No, proprio schermo intero, ok? Modalità schermo, eccolo qua. Control L, che devo ricordare. E questo qua lo mettiamo in un angolino che mi dà fastidio. Allora, vabbè, i loghi che vedete qua in alto, Copyright Italia, è un sito web in cui io pubblico un po' dei miei materiali divulgativi, informativi sul diritto d'autore, quindi se la materia dovesse destare particolare curiosità, potete trovare dei veri corsi, corsi di formazione che mi ho registrato, che ho fatto soprattutto in questi ultimi anni, anno e mezzo, due anni, in cui siamo passati in didattica a distanza. E quindi tutta la mia attività che prima facevo in aula si è portata online, e quindi ho avuto modo di registrare meglio e con più frequenza i miei corsi. Quindi chi volesse approfondire, ovviamente come vi ho detto in questa ora e mezza difficilmente riusciamo a fare le cose bene, può trovare lì dei videocorsi interi, come anche dei libri, dei materiali da scaricare. Array è invece il nome dello studio associato, se così vogliamo chiamarlo, del network di professionisti più tecnicamente, di cui faccio parte, siamo io e altri cinque avvocati che si occupano un po' di questi temi. Io sono quello più sulla proprietà intellettuale in senso puro, poi ci sono quelli che si occupano di diritto dell'informatica e di privacy. Ho messo un titolo, io non sono bravissimo a fare i titoli quelli da effetto, però li faccio molto descrittivi, nel senso che si capisce di cosa si parla normalmente. Copyright e archivi, un'introduzione. Un'introduzione è necessariamente perché, come vi ho detto, in un'ora e mezza non si può che fare un'introduzione. E vi dirò, insomma, vi darò un po' di principi sul copyright e vi farò vedere come questa materia si incrocia col mondo degli archivi. Niente di più, niente di meno. La bottiglia, scusate, prendo la bottiglietta d'acqua perché ho di tanto bisogno. Qua la vostra è. E quindi iniziamo le danze. Ecco, vabbè, qui, come dicevo, vi ho lasciato un po' di riferimenti social, ma anche, più che altro, SlideShare. Non so se lo conoscete, SlideShare è una piattaforma in cui si pubblicano slide, come dice il nome stesso, e trovate queste stesse slide. Quindi credo che ve le farà avere comunque la professoressa, però se le volete condividere anche fuori, no, io non ho problemi. Nel senso che io sono molto, lo sa la professoressa, molto open, come approccio nella gestione dei diritti sui miei contenuti. Ho dei miei interi libri lasciati sotto licenze open che si possono liberamente condividere, quindi non c'è problema anche con le slide, basta che condividete il link a SlideShare e la gente le trova. E le può anche, basta avere un account da LinkedIn e le scaricate anche. Poi c'è Twitter, c'è Facebook, c'è il canale YouTube, non l'ho messo, però più o meno lo trovate passando da Copyright Italia, perché Copyright Italia lo faccio l'embed dei miei video su YouTube, quindi trovate le stesse cose. E poi il blog, dove parlo di aggiornamenti, notizie, cose varie. Ecco, cominciamo con i concetti, perché, allora, più che i concetti, il concetto più o meno non è tanto, è più o meno lo stesso. Il problema è terminologico, no? Perché spesso noi sentiamo usare queste tre espressioni e non capiamo bene se si sta parlando della stessa cosa. Copyright, diritto d'autore, proprietà intellettuale, no? Al convegno uno dei relatori ha detto, no, io parlo di diritto d'autore, perché da noi si deve parlare di diritto d'autore, ed è vero. Noi siamo uno di quei paesi che nel loro, diciamo, ordinamento giuridico, nel loro corpus normativo, usano l'espressione diritto d'autore. E c'è una matrice storica in questo. Sulle cose storiche non azzardo, perché abbiate la professoressa Formiga, che vi può insegnare molto bene. Però ecco, diciamo, la matrice storica di queste due parole è, diciamo, legata, diciamo, semplifico molto, però legata a due diverse rivoluzioni. La prima, Copyright, rivoluzione industriale, quindi all'inizio del 1700. E diritto d'autore, rivoluzione francese, quindi fine del 1700. E perché da noi, guarda caso, si usa quella diritto d'autore? Perché noi siamo stati figli, no? Cioè, del modello francese, in tanti, su tanti fronti, anche su quello amministrativo, no? Non so, il Catastola, c'è tante cose le abbiamo ereditate, ce le ha portate, volgarmente detto, Napoleone con la sua invasione, soprattutto nella zona del nord Italia. E, vabbè, in realtà qua abbiamo, insomma, un po' Austria, un po' Francia, potremmo dire. Però ecco, nel regno di Savoia, che poi è stato il regno d'Italia, che quindi ha avuto le prime leggi civili, costituzionali, amministrative, che poi si sono espansa a tutto il regno d'Italia, era il modello francese che dominava. Però, quasi un secolo prima, in Inghilterra, ci si era posti lo stesso problema. Poi, se proprio vogliamo andare indietro nei secoli, in realtà, la Repubblica di Venezia, la Serenissima, addirittura nel fine 1400-1500, si era già posta la questione del attribuire un diritto esclusivo a chi crea e a chi inventa. Utilizzando, però, un meccanismo un po' diverso da quello che è il copyright e il diritto d'autore moderno, che è quello dei privilegi, anche lì basta leggere il recente libro della professoressa Formiga e trovate qualche informazione di più. Però ecco, diciamo, a me serviva adesso darvi il chiarimento di queste parole, no? Che sentite spesso. Io, ad esempio, già nel titolo delle mie slide, io ho scelto di usare l'espressione inglese. Per essere proprio preciso, essendo io un giurista italiano in un'università italiana che poi mostrerà delle norme italiane, avrei dovuto dire diritto d'autore. Però cosa succede? Che poi, in un certo senso, a livello anche giornalistico, queste due espressioni si sono più o meno unite, cioè nel senso vengono utilizzate quasi l'una come la traduzione dell'altra. Se voi cercate su Google, se mettete su Google Translate o su un dizionario di inglese generico, quindi non giuridico, copyright lo traduce diritto d'autore. E viceversa, no? Però all'esame, se voi andate all'esame, soprattutto a giurisprudenza e li usate come sinonimi, bocciati. Perché vuol dire non aver capito tutto il discorso storico e culturale che ci sta dietro. Ve lo faccio molto brevemente perché se no non riusciamo a finire. Però ecco, qual è la questione? Nella rivoluzione industriale del 1700 il dibattito che si era creato, che più che un dibattito era proprio un conflitto tra categorie professionali, cioè da un lato erano gli stampatori e dall'altro erano gli autori. Stampatori, attenzione, non editori, che poi su questo lascio appunto precisare. Però all'epoca erano coloro che prendevano manoscritti, opere di autori che principalmente erano opere o letterarie o teatrali, perché voi dovete fare uno sforzo di pensare che cos'era il 1700, quali tipi di opere si potevano riprodurre in copie. Le opere letterarie principalmente. Anche le opere musicali sotto forma di spartiti ma era già una cosa molto più di nicchia, cioè non c'era un mercato sì, forse tra i musicisti. Però principalmente si parlava di opere letterarie o di opere destinate al teatro, quindi le sceneggiature teatrali che venivano, si era iniziato a capire che si potevano duplicare in copie senza un gran costo, nel senso una volta fatto un investimento per produrre la matrice da cui stampare le copie, il costo delle copie era sempre minore quanto più diventava alto il numero di copie, quindi io che ne stampassi mille, mille e cinque, tre mila, il lavoro era più o meno lo stesso, mancava il lavoro di caccia, l'aggiunta della carta e della rilegatura, però dopo io stampatore guadagnavo sempre di più, perché avevo tante copie da distribuire, le vendevo io e l'autore era quello che rimaneva fesso, nel senso che era quello che aveva scritto l'opera, ma non trovava una remunerazione dalla maggior vendita di queste copie di un'opera che aveva scritto lui. Si era creato quindi un conflitto diciamo sociale, un conflitto tra categorie commerciali e economiche che la regina Anna di Inghilterra a un certo punto ha deciso di regolamentare con un atto che dopo vedremo in una slide che era il primo copyright act cioè la prima legge sul diritto sul copyright inglese che è del 1710 Statuto della regina Anna Statute of Anne che è un po' la pietra migliare quando si usa a dire quando è nato il copyright si dice 1710 anche lì semplificando molto perché come vi ho detto in realtà il concetto di diritto d'autore di riconoscimento anche della paternità intellettuale esisteva addirittura dall'epoca dei greci e dei romani quindi è un po' semplificatorio ecco dire che è nato tutto lì però ecco sicuramente dal punto di vista giuridico quello è stato una pietra migliare importante però come vi ho detto noi non siamo figli di quel modello lì siamo figli di un altro modello che è quello della rivoluzione francese che ha proprio tutto un background diverso e il background è quello dei principi dell'illuminismo che cercano di mettere al centro l'essere umano la figura l'intellettuale è la figura che crea l'opera ecco perché si parla di diritto d'autore cioè si mette molto l'accento sul concetto di autore di autoralità quindi della persona che crea l'opera e vedete che copyright invece mette l'accento sull'attività di copia e basta leggerla e basta fare un'analisi etimologica insomma siete degli umanisti quindi queste cose qua non ve le devo insegnare anzi probabilmente le insegnate voi o me però copyright ha il diritto di fare copia quindi mette chiaramente in evidenza l'attività di realizzazione copia e chi la fa non la fa l'autore l'abbiamo detto prima la fa colui che ha i capitali e le macchine a disposizione per fare queste copie ok quindi è chiaramente un sistema che strizza l'occhio a favore diciamo leggermente sbilanciato a favore di colui che fa l'attività imprenditoriale di produzione copia più che di colui che fa l'attività creativa noi abbiamo l'approccio opposto noi paesi diciamo figli del modello francese che sono tanti perché Napoleone non è arrivato solamente in Lombardia in Piemonte la Spagna la Germania l'Austria e via dicendo quindi più o meno tutta l'Europa continentale è figlia del modello appunto di diritto d'autore che mette al centro la figura del creativo dell'opera creativa dell'attività intellettuale che ci sta dietro e dopo da lì nascono dei diritti che vengono ceduti all'editore al produttore a tutti quei soggetti invece imprenditoriali ma il fulcro è nelle mani diciamo la nascita di questi diritti è nelle mani dell'essere umano dell'autore della persona fisica che crea l'opera come vi dicevo però ormai al giorno d'oggi dopo tre secoli anche prima dopo due secoli e mezzo cioè già negli anni 70-80 queste parole venivano utilizzate come traduzione l'una dell'altra in senso giornalistico quindi ripeto alla facoltà di giurisprudenza magari vi bocciano ma altrove vi è consentito e anche in questa sede vi consente di utilizzarle come sinonimi come traduzioni l'una dell'altra però ce n'è una terza che ci siamo lasciati indietro proprietà intellettuale che è l'ultimo grido che negli ultimi 20-30 anni si è visto emergere questa dizione questa nuova locuzione proprietà intellettuale che insomma nel senso che cerca di mettere insieme un po' tutto fra cui anche diritti che non c'entrano nulla con l'attività d'autore come non so i marchi brevetti quindi quando si dice proprietà intellettuale il calderone è molto molto ampio e quindi si mettono dentro delle cose che in realtà hanno dei principi molto diversi tra loro ecco perché va usata con prudenza questa questa dizione cioè nonostante è diventata di gran moda anche lì per colpa di una globalizzazione filoamericana nel senso che negli studi legali americani l'attività gli avvocati si occupano quasi sempre di queste tre queste tre aree quindi sia diritto d'autore ma anche i marchi e i brevetti anzi principalmente i marchi e i brevetti perché sono quelli che fanno guadagnare di più gli avvocati lo dicevamo l'altro giorno e quindi per dire che un avvocato si occupa di tutte quelle cose lì insieme si dice proprietà intellettuale adesso è diventato molto 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 in voga c'è una versione alternativa si dice anche proprietà industriale riferendosi invece più strettamente appunto al mondo dei brevetti delle invenzioni industriali quindi potreste trovare anche questa dizione se aprite un libro degli anni anche 70 80 trovate proprietà letteraria riservata me lo confermi i libri fino agli anni 70 avevano questa dicitura non c'era la c di copyright adesso aprite un libro qualunque trovate c di copyright copyright 2020 che indica l'anno in cui l'editore ritiene di avere acquisito il diritto in un libro se prendete un libro dei vostri genitori di quando erano al liceo i vostri genitori anni 70 primi anni 80 proprietà letteraria riservata quindi era un concetto ancora leggermente diverso però il concetto è più o meno lo stesso cioè si cerca di usare la metafora della proprietà come la proprietà che abbiamo sui beni materiali compra un appartamento diventa proprietario di un appartamento quindi una proprietà che ci portiamo un modello giuridico che ci portiamo dietro quasi identico dal diritto romano la parte sui diritti proprietà sui diritti reali che si studia a giurisprudenza in diritto privato è praticamente a livello di concetti è quasi identica a quella dell'esame di istituzione di diritto romano e si cerca di fare una sorta di come dire si chiama fixio iuris finzione giuridica per cui applichiamo lo stesso concetto è una proprietà quindi io sono proprietario del mio del brano musicale che ho scritto come sono proprietario della casa che ho ereditato da mio padre è la stessa cosa i giuristi più attenti dicono stiamo attenti facciamo attenzione a sovrapporre questi due concetti perché funzionano anche lì in modo diverso la proprietà su un bene fisico è una cosa la proprietà su un bene immateriale creativo è un'altra perché come giustamente diceva il professor Hubertazzi la classica metafora della mela se io do una mela a un mio amico mio cugino mio fratello quindi un bene materiale a un certo punto lui la mangia sta mela la mela non c'è più e quindi uno dei due ha rinunciato alla mela l'ho data a lui l'ha mangiata a lui io non l'ho mangiata se io presto un libro a mio cugino lui lo legge torna indietro lo leggo anch'io l'abbiamo letto in due il libro è lo stesso l'opera è la stessa identica cos'è che al massimo può cambiare il supporto cioè il pezzo di carta su cui è incisa l'opera si può fare la fotocopia così lui ce l'ha se la tira per lui gliene posso regalare un'altra copia natale ok quindi cambia la proprietà sicuramente sul pezzo il corpus mysticus il corpus meccanicus il meccanicus è il fisico la parte fisica dell'opera quindi il supporto su cui la copia su cui l'opera è incisa e supportata la parte invece intellettuale in senso proprio è l'opera quindi il libro il brano musicale il testo teatrale il software la banca dati adesso vedremo le varie forme di creatività e quindi ecco niente per darvi un po' la 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 contezza di questi di questi tre termini che probabilmente troverete spesso ok quindi adesso avete più o meno un po' un po' più chiara la 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 questione terminologica da qua in poi io parlerò indistintamente di copyright e diritto d'autore perché ripeto una volta che abbiamo chiarito abbiamo fatto tutto questo bel cappello terminologico in una sede come questa possiamo sentirci autorizzati a usarli come 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 sinonimi ok lo spirito del copyright nasce cioè perché la 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 regina Anna nel 1700 ma anche se vogliamo proprio usare andare indietro negli anni anche i cosiddetti privilegi che venivano concessi nella serenissima di Venezia nascono perché c'è l'esigenza di dare una serie di diritti esclusivi a coloro che creano opere l'obiettivo principale è quello di incentivare la produzione di opere cioè se io do dei diritti esclusivi agli autori vuol dire che sto permettendo agli autori di remunerarsi con la loro creatività e quindi uno è incentivato a fare di lavoro il creativo a fare il musicista a fare il l'autore di testi letterari il fotografo se non avesse questa esclusiva l'attività creativa sarebbe puramente come dire hobby sarebbe piacere della domenica no? piacere creativo ma nessuno e quindi si sarebbero molte meno persone incentivate a farlo quindi utilizzo la leva giuridica utilizzo uno strumento giuridico cioè una norma per creare artificialmente una scarsità su qualcosa che in realtà naturalmente sarebbe non scarso sarebbe di facile io una volta che metto una fotografia su un sito web tutti la possono scaricare tecnicamente se non ci fosse proscritto copyright non puoi scaricarla oppure non la puoi copiare e quindi io creo con uno strumento giuridico una scarsità per cui il bene diventa di valore perché è più scarso è più difficile da trovare sul mercato e quindi incentivo la produzione di opere creative quindi l'obiettivo del copyright non è tanto l'obiettivo finale del diritto dottore del copyright non è tanto dare un vantaggio economico a chi crea ma dando un vantaggio economico a chi crea creare un bene collettivo creare un vantaggio collettivo per tutti cioè avere più opere dell'ingegno aumentare la produzione culturale questo sarebbe nella nella diciamo idealisticamente la volontà di coloro che si sono inventati nel 1700 questo questo istituto giuridico che che sia ancora così sarebbe una bella tesi di lauree nel senso che adesso soprattutto sui brevetti sarebbe da fare un bel ragionamento cioè in campo tecnologico attualmente non è ben chiaro se i brevetti servono davvero a incentivare l'innovazione o se servono per bloccare l'innovazione degli altri cioè penso che il brevetto nasce chiaramente per incentivare l'invenzione industriale l'inventiva industriale ma se diventa uno strumento per cui il più forte il più ricco mette dei paletti per evitare che gli altri diciamo disturbino la sua attività interferiscono la sua innovazione a un certo punto diventa uno strumento per bloccarla l'innovazione per rallentarla ed è un po' quello che sta succedendo in questi ultimi anni c'è un dibattito molto aperto sui brevetti in ambito software e tecnologico lì è il mondo dei brevetti quindi mondo molto a sé oggi non ne parliamo ma anche sul mondo del diritto d'autore si potrebbe fare lo stesso tipo di ragionamento cioè davvero è ancora così cioè davvero il copyright è ancora un modo per incentivare la produzione oppure è diventato un modo per controllarla è sempre stato anche un modo per controllarla però diciamo la sua anima di controllo forse adesso si è ingigantita un po' è diventata un po' troppo presente rispetto all'altra anima che è quella di incentivo che era quella originale di incentivo alla produzione di opere e tra l'altro voi giustamente mi direte ma vabbè se nasce come incentivo noi dovremmo aver avuto un dal 1700 in poi un picco di maggior produzione letteraria musicale che è vero in realtà c'è stato ciò nonostante non è che prima del 1700 non avessimo la produzione letteraria anzi no chi sono questi tre qua quello in mezzo penso che lo conosciate abbastanza gli altri due chi sono il cantante dei Virgilio Dante e Shakespeare ho messo tre per dire insomma tre epoche diverse no però Virgilio Dante Shakespeare hanno scritto quello che hanno scritto senza il diritto d'autore senza copyright non se ne preoccupavano nemmeno del discorso di avere o no un'esclusiva sulla riproduzione sulla riproduzione delle loro opere uno perché le riproduzioni in realtà o non c'erano o erano di un tipo per cui non se ne percepiva il valore economico no come si come si riproducevano i libri non so l'Eneide all'epoca o la Divina Commedia poche copie scritte copiate a mano da dei monaci che finivano nelle biblioteche quindi insomma il discorso del fare copie del diffondere copie fatte con un procedimento industriale era proprio un problema che non si è posto e non si è posto nemmeno con Gutenberg perché la stampa Torchio è ancora una stampa troppo elitaria è una stampa costa forse ancora più caro cioè il libro fatto a Torchio quindi diciamo periodo più o meno 1500 non è ancora il libro fatto col procedimento industriale di cui si occupa il copyright act del 1700 sono proprio anche lì un'altra epoca su queste cose ripeto non invado il terreno della professoressa però non è un caso che l'esigenza si sia percepita nel 1700 perché è l'applicazione di un procedimento industriale all'attività di copia che cambia che cambia molto la percezione cioè gli autori lì cominciano a capire che c'è uno stampatore che può fare mille mila n mila copie senza dando a loro magari semplicemente il costo dell'acquisizione del manoscritto ti pago il manoscritto da qui in poi decido io quante copie farne eh col cavolo rispondono gli autori inglesi del 1700 parliamone parliamone perché se tu ne fai mille io ti posso far pagare un certo prezzo ma se poi l'opera ha successo dopo e io non lo so e tu ne vendi 5.000 10.000 100.000 io vengo pagato quel sacco di denari che mi hai dato all'inizio e basta no allora bisogna inventarsi un meccanismo per cui io all'autore devo rendere conto anche dopo in un certo con certi criteri e appunto il mondo inglese lo fa in un certo modo il mondo francese e connessi lo fa in un altro però questo per dire che questa slide per dire che comunque prima non è che non si creassero opere anzi se ne sono create e anche di gran valore forse di valore maggiore rispetto a quella che si crea oggi che spesso sono come dire destinata ad un'obsolescenza abbastanza veloce no sapete cosa sono i tormentoni estivi le canzoni che ci tirano scemi per un paio di mesi tutte le estati se io vi chiedo qual è il tormentone di tre anni fa non ve lo ricordate vero e ci tirano i scemi per tre mesi magari nel 2018 2019 la cantavamo anche se non volevamo cantarla quella canzone lì però quella quel brano musicale ha un copyright che dura 70 anni dalla morte dell'autore al pari dell'opera letteraria che ha preso il premio strega o che ha o l'opera scientifica del premio nobel della fisica uguale perché il diritto autore non fa distinzione di qualità dell'opera questi signori hanno creato quello che hanno creato senza averlo diritto d'autore ma perché perché l'incentivo era un altro creare opere di quel livello all'epoca voleva dire far parte di un'elite voleva dire essere invitati alla corte di Tizio la corte di Caio del signore tale che ti poi commissiona il quadro non so il testo teatrale per una rappresentazione ti commissiona ti fa educare i suoi figli ok quindi era un altro modello di sostenibilità della creatività non più moderno ovviamente non 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 vorrei tornare a quel mondo lì però ecco per farvi capire che l'incentivo di cui parlavamo prima è legato anche molto al contesto storico e culturale in cui siamo oggi sta cambiando ancora perché perché oggi ci stiamo rendendo conto che grazie alle tecnologie di oggi la gente può creare opere e mettere a disposizione del pubblico anche senza avere l'incentivo economico tutti voi che avete un account Instagram fate magari anche delle foto carine belle le mettete su Instagram nessuno vi dà un soldo di quella roba lì l'unico che ci guadagna è Instagram cioè meta in realtà si chiama adesso la società che ci guadagna no poi non viene in tasca nulla però lo fate lo stesso perché boh perché mettere le foto belle su Instagram vi fa diventare molto popolare vi fa avere più follower vi fa non so poi se fate i fotografi professionisti magari l'approccio cambia cioè se uno di lavoro fa il fotografo professionista magari sul suo account Instagram mette una foto ogni tanto per far vedere che è bravo ma quelle che quelle che poi lui vuole vendere vuole utilizzare per i concorsi o per o le foto dei matrimoni che gli vengono commissionate o di feste private quelle lì le fa pagare e c'è dei diritti secondo un modello che è quello un po' più classico però ad oggi ci si sta accorgendo che molti esseri umani del mondo contemporaneo producono una gran quantità di opere creative e poi potremmo discutere sulla qualità di queste opere creative ma ripeto il diritto d'autore non si occupa della qualità quindi si applica sia all'opera di Banksy quindi di un grande artista contemporaneo sia al che ne so al disegno di 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 un autore di un disegnatore di vignette anche magari poco poco raffinato uguale stesso tipo di diritto d'autore stessi tipi di diritti poi un'opera avrà un grande valore l'altra avrà un poco poco valore economico però dal punto di vista dei diritti applicati è la stessa eccolo qua questo è il famoso atto della regina Anna volevo e ve l'ho messo perché questa è il frontespizio diciamo la prima pagina proprio per farvi riflettere su il titolo un atto per promuovere l'apprendimento allora in realtà dice an act of encouragement of learning by investing the copies of printed books in the authors or purchases of such copies during the times that I mention cioè il principale obiettivo di questo atto della regina Anna è incoraggiare l'apprendimento quindi vedete che non so se è un po' di no come dire atteggiamento tipicamente legalese fare un giro di parole per non dire quello che non vuoi dire come vi ho raccontato prima l'obiettivo principale era mettere pace in un conflitto sociale economico che si era creato quindi ok stavano litigando non c'erano delle regole chiare allora la regina Anna ha detto ok facciamo facciamo stabiliamo delle regole per capire cosa chi ha diritto a cosa ok però vedete che nella sua vocazione primaria l'obiettivo è promuovere l'apprendimento cioè avere un diritto d'autore avere un scusate in questo caso un copyright serve a incentivare la produzione di opere in questo caso nella mente della regina Anna d'Inghilterra di opere destinate alla conoscenza all'apprendimento no che poi non è solo quello a volte anche intrattenimento cioè io se ascolto musica posso ascoltarla con atteggiamento di apprendimento perché magari sono un musicologo sono uno studente di conservatore oppure semplicemente sto facendo palestra e voglio ascoltare la musica in sottofondo per me è puro intrattenimento stesso discorso il diritto non cambia che sia destinato in una direzione o nell'altra è sempre sempre copyright sempre sempre copyright però ecco è così se voi leggete adesso non l'ho messo anche la costituzione americana che se vi ricordate un po' la storia è leggermente è in mezzo diciamo tra i due le due pietre miliari che ho messo cioè rivoluzione industriale 1710 e rivoluzione francese fine del 1700 le leggi quelle sui diritti autori sono 1793 95 le leggi la canal quindi proprio appena la rivoluzione francese si usa come data 1789 la presa della bastiglia in realtà la rivoluzione è stata come tutte le rivoluzioni si è spalmata non è quel giorno lì per un po' di tempo un po' di mesi però poi c'è stata la parte repubblicana di storia repubblicana francese in cui sono state fatte queste leggi che erano oggettivamente molto moderne rispetto a a quello che avevamo avuto prima tant'è che sono servite come modello anche per dopo ecco in mezzo ci sarebbe la costituzione americana che è 1776 se non dimentico e nella costituzione americana c'è proprio un articolo che parla della della possibilità di creare delle esclusive sia per le invenzioni che per le creazioni con l'obiettivo di incentivare la produzione culturale sempre così l'approccio non perché voglio far arricchire gli autori ma perché facendo arricchire gli autori cioè dando la possibilità agli autori di arricchirsi tramite la loro creatività o la loro inventiva io do un beneficio alla collettività ok ecco cominciamo con le immagini evocative siete mai stati ad una fiera del disco vinile no infatti per loro è un mondo no davvero nessuno ha i vinili a casa ma non è quelli del papà della mamma ce li avrete no avete mai provato a sentire quanto pesano no ho fatto questa foto perché provate a immaginare quanto pesa una cassa di queste qua che ha dentro neanche tanti quanti saranno 30 dischi 40 dischi un disco un disco in vinile dura circa un'oretta forse meno 58 55 minuti cioè fronte retro al massimo ci sta circa meno di un'ora di musica vuol dire che se un long plane dura quindi un un disco di qualche band dura leggermente in più devono farlo doppio devono metterci due vinili cosa che ai miei tempi si faceva user illusion di Guns N'Roses era un doppio e i Pink Floyd facevano queste cose ad esempio no era per farvi capire il discorso del peso e dello storage visto che voi siete gli archivisti dovete fare i conti anche con quello un archivio non digitale ma un archivio di supporti fisici deve tenere in considerazione anche l'aspetto fisico cioè dove li metto come li conservo li posso mettere in cantina ad una temperatura che è quella che uso per il Valpolicella no perché si piegano e quindi poi non sono più fruibili ci sono delle a seconda del tipo di supporto ci sono delle delle linee guida corrette per il corretto per il corretto per la corretta conservazione però ecco per farvi capire il peso pesano più o meno come adesso io devo andare a Firenze domani sul bagaglio sono venuto con un trolley piccolo e la professoressa Formica mi ha regalato un librone dell'università che mi occupa buona parte del peso ecco grazie dammi altri 4 o 5 per favore no ecco per dirmi che e poi c'è dentro una tazza anche una tazza dell'università di Verona no però per dirvi che quando abbiamo a che fare con opere dell'ingegno dobbiamo anche pensare a questo cioè per anni il diritto dottore è stata questa roba qua cioè è stato anche prendere in considerazione l'aspetto del quello che prima abbiamo chiamato corpus mistico cioè scusate corpus meccanico cioè del pezzo di o vinile o di carta o di plastica a seconda del tipo di opera su cui va salvata incisa e resa fruibile l'opera per voi è un mondo già passato perché voi cosa fate fate tutto attraverso un unico supporto il cellulare o il computer che a parte che ormai non sono neanche più neanche questi due oggetti sono così distinguibili ormai però diciamo un aggeggio lo lascio lo lasciato qua un aggeggio che ha un costo 90 euro ormai quelli scarsi e che sono comunque dei computer cioè anche quelli che senza arrivare ai 700-800 euro dell'ultimo iPhone strafico però anche quelli scarsi in realtà hanno tutti delle funzioni multimediali di archiviazione di contenuti di riproduzione e riproduzione cioè voi potete fare foto potete modificare le foto degli altri sono cose che voi che siete di questa di questa vostra generazione percepite come normali ma io e la professoressa Formiga che siamo di un'altra generazione io e lei che è di un'altra generazione ancora percepiamo scusa no volevo dire basta non mi invita più basta con questa mi sono bruciato ogni collaborazione no allora noi che tu te la ricordi la fase in cui si registrarono le canzoni della tv no se tu racconti a loro sta cosa ti guardano così è della radio esatto cioè con un microfono tipo questo ma molto più scarso come qualità un registratorino tu lo piazzavi davanti alla radio aspettavi la canzone che ti piaceva per registrarla e ti beccavi il parlato del DJ che ci parlava sopra per i primi 30 secondi esatto e la pubblicità finale quindi però quello era il mondo all'epoca cioè se volevi ascoltare musica era così non c'era il YouTube che schiaccia il bottone e me la fa sentire o no poi quando siamo arrivati ai primi masterizzatori così quello che aveva il masterizzatore era l'amico che tenevi buono i primi masterizzatori cioè i primi aggeggi per fare copie digitali l'ha detto volgarmente quindi quando sei cominciato a fare le copie digitali effettivamente cominciavi a non percepire più la differenza qualitativa tra la copia tra l'originale e la copia perché insomma poi in realtà questo discorso quando lo fai iPhone ci dicono eh no non è vero noi abbiamo l'orecchio capiamo subito se stai suonando un CD originale o un file mp3 che ha un un leggero abbassamento della qualità ok tolto al netto di quello per l'essere umano comune è stata una rivoluzione mostruosa che voi non percepite ma non è tanto lontano questo mondo eh ok basta andare indietro di una generazione rispetto alla vostra e questo che cos'è vediamo ho lasciato apposta in bianco questa è una foto molto evocativa questo è il carrello di bolliti che abbiamo mangiato io e più o meno era così ecco e anche lo sforzo che sta facendo il tizio vi fa capire la difficoltà che ho avuto io questa notte no al stesso battute a parte che cos'è secondo voi invece a parte che c'è c'è una scritta sopra che magari non leggete però già già indicativa c'è scritto IBM Data Processing Driver se leggo bene no Data Processing Division vabbè comunque è la vuol dire IBM è una marca di computer no ok marca di processore di computer ed è una foto del 1956 e quello non è un computer è un hard disk cioè è una memoria di 5 megabyte 5 megabyte cosa ve quanti giga avete sul cellulare adesso il cellulare più sfigato nasce già già con 16 giga forse adesso no che vuol dire quante migliaia di volte in più rispetto fate la divisione quanti quanti megabyte ci stanno in un gigabyte e vi rendete 5 megabyte allora le slide che ho mandato la professoressa Forniga ieri notte occupavano 2 megabyte quindi su quel coso lì ci stanno le mie slide e un brano musicale ok nel 1956 a voi sembra molto molto lontano mia mamma è nata nel 55 quindi non è poi così lontano ecco anche lì perché vi faccio vedere sta foto perché conta molto l'aspetto fisico quando si tratta di archiviare dati memorizzare dati e quando dico dati intendo anche opere creative no perché un conto è utilizzare questo aggeggio per memorizzare i calcoli che avete fatto quindi questo sicuramente essendo il 1956 questo aggeggione andava a finire in qualche che ne so qualche centro di ricerca o qualche sede della NASA militare cose del genere perché non è che ci fossero i computer nelle case in quegli anni no quindi l'essere umano il comune cittadino non se ne poneva nemmeno il problema e quindi vabbè non credo che qua ci avessero poi salvato chissà quali brani musicali o film anche perché ripeto non so con quale qualità dovevano farlo se essendo la quantità come dire la capacità di memorizzazione di questo aggeggione di 5 megabyte però ecco quello vi faccio riflettere cioè voi quando andate in giro col vostro cellulare in tasca o col vostro lettore di mp3 di audio vi potete portare dietro probabilmente tutta sta roba qua cioè tutto quello che c'è in questa foto no tutta la discografia qua cosa c'è rock progressive c'è jazz c'è se sono un po' di musica italiana voi potete avere in un'unica memoria quello che questo signore qui vende in una bancarella di che ne so 4 metri per 3 che ha un peso ho cercato un articolo che non ho trovato di uno collezionista di vinili che gli ha crollato il soffitto perché pesano così tanto per cui se voi li accumulate questo qua li accumulava in una soffitta pensando che fosse solida e che è venuta quando le ha messi troppe a un certo punto è venuta giù non mi ricordo era una notizia di qualche anno fa che faceva ridere però è indicativa di quello in compenso c'è un lato come dire un rovescio di questa medaglia che è molto più difficile perdere queste informazioni rispetto a quelle che avete sul vostro cellulare il vostro cellulare vi cade vi si rompe cade in acqua ve lo rubano e voi perdete tutte le fotografie che avete in quel cellulare piangete perché non le avevate mai scaricate cosa che vi invito invece sempre a fare fate un backup automatico dei vostri dati perché sono troppo preziosi e poi si piange quando succede quindi vedete come cambia il mondo adesso vabbè stiamo andando un po' fuori tema sul discorso diritto d'autore ma in generale parliamo di conservazione dei dati che però è molto on topic sui vostri argomenti però ecco questi sono spunti che bilancio come riflessione però ecco arrivando all'altra rivoluzione abbiamo parlato di un po' di rivoluzione industriale francese arriviamo a quella dei giorni nostri cioè la cosiddetta rivoluzione digitale e perché impatta tanto sul concetto di copyright lo dice la parola la mia capacità grafiche come vi ho detto non è che siano così raffinate però sono efficaci nel senso che ho preso la parola copyright e le ho cancellato le quattro lettere copy perché effettivamente siamo in un mondo in cui la copia viene sempre meno cioè si percepisce meno il concetto di copia perché la copia digitale l'ha spiegato bene il professor Ricolfi lunedì non so neanche se si può chiamare davvero copia perché è un clone io prendo queste slide e le copio in un altro cioè faccio copia o duplica e le metto in un'altra cartella ho fatto un clone perfetto del file cioè l'elenco di bit cioè di 0 e 1 che compongono questo file è lo stesso a meno che il file sia corrotto per qualche motivo i due file sono identici se io li sposto di cartelle li mischio non so più non so più distinguere qual è il primo qual è il dopo qual è il nato prima dei due se non andando a guardare che ne so le informazioni del file per vedere qual è che è stato creato prima cioè vedo la data ok si è stato creato un giorno prima dell'altro ma a livello puramente di informazioni insite nel file non vedo la differenza e vi assicuro che invece la differenza tra il brano musicale originale e quello che registravamo noi col microfono davanti alla televisione o davanti alla radio vi assicuro che la differenza si sentiva molto ad occhio a orecchio nudo diciamo e questa è una rivoluzione che è arrivata possiamo dire nei primi anni 2000 cioè quando si è cominciato a duplicare le opere creative su supporti digitali e attraverso un meccanismo digitale per cui appunto la copia non è più analogica ma digitale cioè un clone perfetto e quindi le opere diventano facilmente archiviabili e distribuibili perché non occupano più uno spazio se non uno spazio virtuale e impercettibile so che sul mio cellulare ho 16 gigabyte di memoria a un certo punto quando arriva 15 giga virgola 5 lui mi avvisa e mi dice attenzione stai finendo la memoria però è virtuale come cosa nel senso che basta che poi o aggiungo una chiavetta o aggiungo una memoria oppure sposto questi dati da un'altra parte oppure ne cancello alcuni che non mi interessano il grande classico i vocali di whatsapp che riempiono la memoria e si accumulano non me ne faccio nulla allora li cancello magicamente si libera un sacco di spazio sul mio cellulare vabbè detto questo questa qui è una grande rivoluzione le copie le opere dell'ingegno le opere creative diventano facilmente archiviabili e distribuibili si abbassano i costi di distribuzione cioè una copia digitale non pesa difficilmente mi fa cadere il soppalco della mia soffitta perché ci ho messo troppi vinili e soprattutto diventano riproducibili con massima fidabilità ma soprattutto la riproduzione diventa alla portata di tutti prima parlavamo appunto fino anni 90 prima i anni 2000 loro probabilmente erano appena nati o neanche nati io me lo ricordo bene c'era il mio amico era uno che aveva il primo masterizzatore del gruppo diciamo della nostra compagnia era corteggiato da tutti perché ti faceva le copie dei cd che ti interessavano ovviamente illegalmente nel senso violando il diritto d'autore però sì una volta che tu avevi la copia di quel cd era una copia digitale quindi non percepivi davvero la bassa qualità la differenza di qualità rispetto all'originale e quindi tutti diventano dei potenziali produttori di copie molto affidabili cosa che fino a quel momento invece era stata quella attività per 300 anni era stata prerogativa esclusiva degli editori dei produttori discografici cioè di soggetti professionali soggetti che di lavoro fanno copie e quindi che di lavoro vi vendono il copyright ok altra annotazione sempre di carattere più economico che giuridico per farvi capire quanto pesa il copyright nella nostra economia quando si dice non so chi sono gli uomini più ricchi del mondo ecco adesso forse si dice Bezos Zuckerberg sono quelli della nuova della nuova generazione ma qualche anno fa vi avrebbero risposto Bill Gates quello di Microsoft che adesso dicono si sia ritirato a vita privata e fa solo il filantropo però rimane uno dei primi uomini più ricchi del mondo forse comunque nei primi dieci e questo come è diventato Bill Gates come ha fatto a diventare così ricco se non vendendoci copyright cioè lui per 20 anni ci ha venduto la licenza di Windows no Microsoft si ha venduto Windows che voi vi siete beccati volenti o nolenti nel senso che tutte le volte che comprate un computer in un in un media world o in un troni comprate diciamo incorporata nel computer anche la licenza di Windows anche se Windows non lo usate perché poi magari andate a casa e arriva vostro cugino che vi mette Linux no non so quanti lo facciano però qualche pazzo c'è io sono tra quelli quindi un sistema operativo diverso rispetto a quello che ti viene dato in omaggio fra virgolette con la macchina ma in omaggio non è perché voi nei 700-800 euro che avete pagato per il computer c'è una quota che va non so 30-40 euro adesso non so le ultime quotazioni che va in tasca a Microsoft in quanto licenza d'uso del sistema operativo e dei vari software che lei vi mette in omaggio che vi mette anche lì dentro nel pacchetto Word Excel via dicendo quindi per farvi capire quanto pesa il copyright nell'economia moderna di oggi l'economia contemporanea i più grossi capitali di oggi probabilmente si sono basati proprio su sulla vendita di licenze e quindi di copyright adesso si sta spostando molto sul discorso dati quindi negli ultimi anni gli ultimi 10-15 anni da vendita di copyright e da cessione di licenze il business si sta spostando molto su raccolta di informazioni sulla profilazione degli utenti quindi più sul piano privacy che sul piano copyright però ecco rendetevi conto l'altra rivoluzione che in realtà come vedete diciamo è la stessa rivoluzione cioè parliamo sempre del fatto che il copyright sta vacillando in quanto viene meno il concetto di copia ma negli ultimi appunto dieci anni negli anni 2010 in poi possiamo dire che abbiamo non solo un'era della copia digitale ma anche un'era dell'accesso potremmo dire cioè gli utenti non vogliono nemmeno più la copia anche se digitale non se ne fanno nemmeno più nulla perché? perché tanto le copie sono sempre a disposizione online perché tanto abbiamo la rete siamo sempre connessi abbiamo giga illimitati e se non abbiamo giga illimitati abbiamo il wifi dell'università abbiamo il wifi del bar dello starbucks quindi il problema della connessione è diventato secondario e anche lì non so questo forse ve lo ricordate siete giovani ma non così giovani da non ricordarvi la fase in cui non era così non era sempre così facile connettersi no? quando eravate più ragazzini i giga erano più più limitati la connessione a volte non era 4G quindi non prendeva e quindi eri molto lento adesso sto problema qua non c'è più adesso vai ad una velocità tale adesso col 5G sarà una roba una rivoluzione ulteriore per cui saremo tutti connessi ad una velocità ad una capacità di banda tale per cui potremmo davvero far circolare qualsiasi tipo di dati e di informazioni fare streaming all'alta risoluzione senza problemi e quindi siamo nell'era dell'accesso cioè non ci interessa più davvero scaricare la copia perché tanto la copia è su qualche server da qualche parte e quando ci serve ce l'abbiamo cioè se voglio ascoltare un brano musicale cioè oggettivamente cosa fate se vuoi far sentire a un tuo amico una canzone che ti piace ah guarda ho sentito questa canzone che è bellissima l'ho sentita in uno spot pubblicitario aspetta che la c... dov'è che è andata a cercarla? su YouTube no? normalmente è il primo posto che uno va che in realtà non nasce per essere YouTube non nasce per essere un archivio di musica per essere un... nasce per essere una YouTube cioè una TV per te una TV YouTube sta per TV no? per una metafora per dire tubo catodico una TV personale quindi dare uno spazio al privato cittadino al comune all'uomo della strada di avere anche lui uno spazio televisivo quello era l'obiettivo no? è diventato un modo anche per caricare a diffondere musica caricare ho detto non scaricare perché uno su YouTube non ci va per scaricarla sì poi si può anche fare volendo anche lì violando i termini d'uso di YouTube si può anche fare però uno non ne frega nulla perché tanto sa che c'è sempre la canzone quindi sono sempre connesso quando mi serve mi collego te la faccio sentire basta e quindi la gente il problema del tenersi in casa il... a tenersi in soffitta i dischi che poi ti fanno incrinare o cadere il suo palco non si pone più e non si pone neanche più tanto quello che dicevamo prima che mi si riempie la memoria ma beh chi se ne frega tanto i brani musicali sono sempre online quindi quando mi serve lo vado ad ascoltare che per degli archivi per dei futuri archivisti dovrebbe essere una cosa che fa un po' venire i brividi no? cioè perché vi dovrebbe far chiedere chi caspita gli archivi a questi brani nel senso ci sarà qualcuno che se ne occupa perché uno dei rischi è quello che a un certo punto alcune cose andranno perse perché noi facciamo affidamento su dei soggetti privati che di lavoro memorizzano le non so appunto le brani musicali pensate a Spotify ma non sono eterni questi soggetti a un certo punto uno può fallire decidere di chiudere decidere di fare un altro business decidere di mettere un abbonamento per cui vi fa sentire solo alcuni brani musicali altri no e voi perdete tutto quello che normalmente eravate abituati a sentire e quindi chi è che vince in quella situazione vince lo zio che si è tenuto a casa ai vinili che ha ancora il vecchio è un problema delicato a questo perché anche sul discorso della carta dell'abbandonare la carta la carta è superata è vecchia ciò nonostante la carta magari anche siamo nei suoi antenati precedenti pergamena e papiro vecchi che sono però ci hanno permesso di avere di far arrivare a noi opere scritte migliaia di anni fa e invece a volte non riuscite ad aprire un file che è stato creato da un computer di vostro cugino cinque anni fa perché il formato non si legge più o il cd il dvd rom su cui è salvato è corrotto quindi questione non da poco che però ecco esono dal discorso diritto d'autore quindi mi fermo qua esatto quindi lascio a te poi il fatto cioè noi stiamo delegando a dei soggetti quindi il discorso dell'era dell'accesso cioè stiamo dando per scontato che no che youtube ci sia sempre boh ci sarà sempre cioè nella storia dell'essere umano youtube esiste da 15 anni circa e per adesso è in crescita ma sarà sempre così boh ma pensate alla storia di quello che dell'account amazon che è stato chiuso non so se te la ricordi questa era una delle prime sentenze in cui si era vista la debolezza di questo meccanismo cioè una signora mi sembra americana che si era comprata un po' di ebook su amazon e quindi aveva il suo bel archivio poi a un certo punto ha cominciato a passarli in giro diciamo a farli a far accedere a questo account amazon anche a soggetti che non erano autorizzati quindi a violare il copyright di amazon amazon l'avvisa una volta l'avvisa due l'avvisa tre in un certo punto le chiude l'account che è una delle sanzioni diciamo che che i termini d'uso di amazon prevedono se tu non ti comporti bene violi i nostri le nostre regole violi il copyright e noi a un certo punto ti chiudiamo l'account e lei si è trovata a non avere più una serie di libri che lei aveva pagato per avere cioè sono scomparsi perché le hanno chiuso l'account e lei non aveva più modo di accedere all'account e quindi non leggeva più i mille qualcosa libri che si era comprata cioè che aveva pagato ma l'errore è proprio questo nel verbo utilizzato lei li aveva davvero comprati cioè lei aveva comprato quei brani musicali come io ho comprato questa bottiglietta la macchinetta qua fuori o al bar ieri mattina o aveva comprato una licenza d'accesso sembra una tu dici vabbè è arrivato il giurista a fare la roba la classica questione di lana caprina come si dice arriva il giurista che vuole fare il pippone su le parole vabbè cosa cambierà no cambia perché la professoressa Formiga lo sape che l'ho chiesto una sorta di consulenza io ho ereditato dei bellissimi libri del 1800 da parte di un prozio che non so chi sia bene però ce li ho lì e sono ancora perfetti non so se mio nipote erediterà i miei ebook no quindi questi sono libri che questo mio prozio ho comprato nella seconda metà dell'800 e sono ancora da me non sono sicuro se in realtà se voi leggete i termini d'uso di Amazon c'è scritto che l'account è personale e quindi non puoi darlo in eredità quindi quando uno muore in teoria l'account muore con lui si autodistrugge quindi tutti i soldi che lui ha pagato per avere questi per avere questi libri sono stati pagati lui ne ha fruito ma poi a un certo punto finita questa cosa perché lui non era davvero proprietario di libri ma aveva semplicemente comprato un diritto d'accesso una licenza per fruire di questi contenuti ed è una differenza sostanziale non puramente formale ok sia da un punto di vista giuridico sia da un punto di vista economico come vedete anche da un punto di vista fiscale te la ricordi la polemica del fatto che sugli ebook si paga l'eval 22 e invece sui libri cartacea si paga l'eval 4 perché ma in realtà è corretto io mi ero schierato mi ero schierato dalla parte c'era stata una campagna un 7-8 anni 6-7 anni fa su rimettiamo l'eval 4 ma in realtà avevano sbagliato perché è vero comprare un ebook su questi account su queste piattaforme stai comprando un servizio non stai comprando un bene cioè io compro un libro in libreria libro cartaceo da quel momento cioè dal momento in cui il libraio mi batte lo scontrino io esco dalla libreria quel libro è di mia proprietà è un oggetto di mia proprietà non è di mia proprietà l'opera su cui che c'è scritta sopra perché c'è la cosiddetta proprietà intellettuale se vogliamo chiamarla o il diritto dell'autore dell'editore e via dicendo ma l'oggetto è mio se io poi lo porto a casa e lo uso per metterlo come spessore sotto il tavolo perché il tavolo balla e non lo leggo al libraio all'autore all'editore frega zero e non deve fregare zero perché quello è un mio libro è un oggetto che ho comprato ok con l'accesso a queste piattaforme cambia invece perché loro sanno tutte le volte che lo reggi sanno tutte le volte che lo apri sanno su quale pagine ti fermi di più e quindi qual è il tema non so se hai comprato un manuale qual è l'argomento che ti interessa di più quindi state pagando parzialmente quel bene con la disclosure dei vostri dati cioè lasciandovi profilare no ancora più in tutti quelli accanto che sono gratuiti tutti i casi in cui non vi fanno pagare ah è gratis è gratis il cacchio è gratis dal punto di vista puramente monetario ma dal punto di vista più generale economico lo state in qualche modo pagando quel bene lasciandovi lasciandovi profilare lasciando conoscere al soggetto che fornisce quel servizio e non quel bene lasciando conoscere le vostre attitudini le vostre preferenze per cui poi vi proporrà un manuale simile vi proporrà un corso di formazione su quell'argomento vi proporrà un viaggio una vacanza studio in quella direzione e via dicendo questo è un po' il gioco in cui stiamo siamo tutti parte e difficilmente ci riusciamo a sottrarre quindi non è che sto facendo un discorso moralista per cui o luddista per cui dobbiamo tornare no ne parlavamo all'evento è chiaro che se avessimo applicato il copyright in senso rigido e classico negli anni prima di appena prima di queste rivoluzioni le rivoluzioni non ci sarebbero state e noi avremmo ancora un mondo che è senza senza tutti questi bei servizi che in realtà ci hanno migliorato la vita inutile negarlo no cioè adesso poter schiacciare il bottone ascoltare il brano musicale anche se non ce l'ho anche se non ho il lettore è una grande innovazione inutile far finta nascondersi dietro un dito e dire vogliamo tornare agli anni 90 no però ecco al convegno uno che voleva tornare agli anni 90 forse c'era no ti ricordi uno che ha fatto un intervento più conservatore poi l'ha motivato bene mi è piaciuto però insomma un intervento molto conservatore diceva insomma questi grandi soggetti diciamo che adesso forniscono contenuti online si stanno approfittando della della loro posizione dominante della loro posizione quasi di monopolisti perché se parliamo di google amazon facebook stiamo parlando di se non sono oligopolisti se non sono monopolisti sono oligopolisti si stanno avvantaggiando e approfittando di questa loro posizione e diciamo parassitandosi sulle spalle di coloro che poi i contenuti li producono che sono gli autori in quel caso i giornalisti e dice no invece col calco nel senso questi si diffondono contenuti non li pagano e si nascondono dietro la barriera del service provider adesso non posso andare troppo in questo però il service provider è quel soggetto che fornisce un servizio e rimane e dice io non sono responsabile di quello che succede poi su questa piattaforma io metto a disposizione solo la piattaforma se poi gli utenti ci caricano cose che non possono caricare io cosa ci posso fare ve l'ho fatta molto semplificata però è un po' il gioco che alcuni di questi fanno da un po' di anni ma perché il diritto gliel'ha concesso cioè il mondo giuridico ha pensato che fosse il caso di dare questa protezione a questi soggetti negli primi anni 2000 per incentivare appunto l'attività di fornitura di questi servizi online adesso che questi sono diventati dei giganti e quando dico giganti ripeto stiamo parlando della più grossa concentrazione di capitali che la storia umana ha mai conosciuto cioè nella rivoluzione industriale non c'è stata una concentrazione di capitali così alta come quella che c'è nella California di questi anni no? se voi fate due passi nella zona del San Francisco sud di San Francisco della Baia lì ci sono le sedi delle quattro società che probabilmente come dire riassumono in sé la più grande ricchezza di tutto il mondo e che lo fanno come vi ho detto prima un po' sfruttando la creatività degli autori di tutto il mondo senza remunerarli e un po' soprattutto questa seconda parte profilando gli utenti come noi come voi che pur di avere qualcosa gratis si lasciano come dire profilare si lasciano che la loro la loro vita venga quasi sempre seguita cioè seguita quasi costantemente profilata quasi costantemente sì 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 ci sono ci sono giusto ho visto no quindi cosa succede negli anni in questo era dell'accesso internet la differenza rispetto al decennio precedente diventa un fenomeno di massa cioè non è che nel 2003-2004 internet non ci fosse c'era già io ho avuto il mio primo computer connesso nel 2001-2002 quindi ero all'università però la connessione era quella a 56k anche lì non so se avete idea cosa vuol dire il modem per collegarsi faceva una telefonata voi sentivate proprio il suono di una telefonata per connettersi e la velocità era quella che era si diffondono poi gli smartphone e i social media cioè attraverso le piattaforme social diventiamo tutti potenziali produttori di contenuti e di diffusori di contenuti infatti di fatto tutti hanno tra le mani la tecnologia per fare coppia e diffondere coppia cioè questa roba qua no un aggeggio di costo quasi quasi zero potremmo dire perché ormai ve lo regalano fai l'abbonamento con Vodafone ma sì se vuoi ti diamo il nostro cellulare quello scarso però te lo diamo in omaggio che poi così scarso non è perché comunque le funzioni base per fare attività di violazione del diritto dottore ce le ha tutte e soprattutto quello che dicevamo prima l'interesse ad acquisire copie scaricare copie e conservarle sui propri memori diminuisce o va a zero perché tanto le opere sono sempre disponibili in rete io lì ci posso accedere perché tanto c'ho la connessione illimitata arriviamo a questo cioè quando noi parliamo di copyright e questa è una sale che uso in tutti i miei corsi all'inizio per fare un po' riflettere noi dobbiamo guardare la materia con due punti di vista due ottiche quella del titolare dei diritti e quella di utilizzatori io chiedo a voi cioè allora il titolare dei diritti chi sono? coloro che creano le opere e che hanno l'interesse a tutelare questa loro creazione e l'investimento che hanno fatto per promuoverla diffonderla quindi sono gli autori principalmente come abbiamo detto ma anche poi loro si dice a venti causa cioè quelli a cui loro cedono i diritti gli editori i produttori le agenzie di fotografia le software house e via dicendo questi sono quelli che appunto vogliono sapere cosa la legge prevede che quali principi la legge prevede per difendere i loro diritti per tutelare il loro investimento ma dall'altra parte c'è rest of the world c'è tutti gli altri c'è tutti coloro che invece queste opere le vogliono utilizzare e quindi vogliono sapere quali possiamo dire quali spiragli la legge prevede per poter utilizzare liberamente le opere fatte da altri e io chiedo a voi che siete dei futuri archivisti o diciamo player del mondo della della comunicazione voi da che parte vi sentite se voi sentite più blu o più arancio come come secondo voi un archivista da che parte sta un bibliotecario da che parte sta qualcuno mi risponda su nel senso non è una domanda non c'è un giusto sbagliato ma proprio come vi sentite voi perché magari uno di voi sta studiando questa materia ma diciamo sua vocazione fa il fotografo fa il musicista io ho passato da musicista quindi so cosa vuol dire scrivere creare ho scritto dei libri quindi magari qualcuno di voi dice io sto studiando all'università però in realtà faccio anche scrivo poesie e ho pubblicato quindi da che parte vi sentite niente non parla nessuno prego cioè tu dici sì in ambito universitario tu utilizzi libri di altri per studiare quello è vero sì però a un certo punto una tesi dovrai scriverla no e augurandomi che la scrivi davvero tu cosa che a volte non succede sempre però augurandoci che sia una tesi originale se sono scritta davvero da te inizierai a porti il problema del come tutelare insomma evitare che qualcuno prenda questa tua tesi e la utilizzi e ti assicuro che il rischio più grosso non viene da quelli che la vanno a leggere su internet ma dal professore o dalla professoressa o dal dottorando in mala fede che ti ha seguito durante la tesi e che poi si piglia un capitolo per farsi un articolo lui storie che nell'università ci sono state e quindi lì ti servirà a sapere cosa la legge prevede in questo caso il fatto che lui ti abbia seguito nella tesi gli dà un diritto cioè davvero lui può ah ti ho seguito io nella tesi e quindi è come se l'avessimo fatta insieme quindi posso prenderla utilizzarla per i miei articoli oppure no oppure la tesi l'hai fatta tu e lui ti ha semplicemente dato delle indicazioni e quindi col cacchio che lui si può prendere e riprodurre in un articolo senza rendermi conto quindi vedete che prima o poi arriverà ma questo per dire un esempio per dire cosa che in realtà nel mondo di oggi è molto difficile dire mi sento nettamente di qua infatti tu giustamente hai detto per adesso mi sento di qua perché hai già percepito che prima o poi dovrai fare un salto ogni tanto dall'altra parte sì è vero che l'archivista forse tra le varie figure professionali è quello più più tendente al blu perché l'archivista cosa fa archivia cioè prende cose già fatte da altri e deve saperle conservare quindi la sua attività dovrebbe essere il più assettica possibile rispetto al contenuto però è vero che gli archivisti tutti quelli che conosco io organizzano l'evento fanno la locandina fanno la lettura di opere invitano l'ospite fanno la presentazione del libro quindi anche nell'attività archivistica più classica poi vi trovate a dover creare contenuti e a chiedervi se poi questi contenuti che avete creato voi hanno dei diritti quindi più o meno ci spostiamo un po' su questa in questo in questo schema un po' di qua un po' di cioè quindi questa riga questa riga bianca che trovate qua in mezzo in realtà non è così bianca ecco non è così scusate non è così netta dovrebbe essere un po' più sfumata qua vi ho messo vi ho detto di norme giuridiche ne vedremo poche però vi ho messo l'articolo 1 della legge sul diritto d'autore che serve a farvi capire di cosa si occupa il diritto d'autore sostanzialmente la legge è la 633 del 1941 è la nostra legge sul diritto d'autore 1941 è l'anno non è rimasto uguale a se stessa per fortuna dal 1941 è stata modificata più volte quindi questa cosa non vi deve creare scandalo particolare cioè non siamo così vecchi così retrogradi in Italia quindi abbiamo una legge del 41 che però è abbastanza aggiornata adesso sarà oggetto di una modifica sostanziale Ricolfi ha detto più o meno il 10% della legge che non è poco e dice che sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo ecco la definizione che abbiamo usato più volte che appartengono alla letteratura alla musica alle arte figurative all'architettura al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo la forma di espressione cioè più o meno ha preso in una in tre righe ha preso dentro tutte le più classiche e importanti forme della creatività umana letteratura musica arte figurativa in cui ci possiamo mettere dentro anche il design l'architettura e via dicendo la scultura l'architettura ah no l'architettura è a parte quindi la scultura le opere di design la scenografia anche oppure il teatro e la cinematografia e poi aggiunge in un ultimo paragrafo in più sono altresì protetti i programmi per il laboratore cioè software come opere letterarie nonché le banche di dati che per la scelta e la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore l'articolo 2 non fa altro che diciamo prendere questo elenco che è già stato fatto in articolo 1 e dettagliarlo maggiormente e creare dieci categorie di opere che sono le dieci categorie classiche del diritto d'autore italiano quindi l'articolo 2 è da prendere in considerazione quando avete un dubbio cioè dovete capire se ciò che avete davanti è tutelato o meno cioè rientra o meno nella competenza del diritto d'autore e quindi andate a vedere in articolo 2 leggete questi dieci campi dieci forme classiche di creatività e vedete se siete in una di queste indubbiamente siete nel campo del diritto d'autore può essere che magari alcune non ci siano ad esempio un sito web no? creare un sito web è indubbiamente un'attività creativa che rientra sotto il diritto d'autore però qua non c'è una voce un numero 11 siti web ma perché? perché il sito web è un'opera composta da contributi cioè da contributi diversi che sono testuale grafico software a volte anche musicale video quindi è un come dire un'opera multimediale che prende elementi di tutti vari di queste dieci quindi comunque ci rientra anche se non c'è scritto espressamente sui siti web ok? quello che vi interessa di più forse sono le banche dati cioè voi come archivisti lo vedremo nell'ultima slide un archivio di fatto è una banca dati analogica a parte che un archivio digitale non lo è cioè nel senso se creato un archivio digitale allora è una banca dati in senso più più proprio più più tecnico ma anche l'archivio l'archivio storico quello in cui ci sono i documenti cartacei del comune di Verona o del comune di Vicenza è un in sostanza una banca dati analogica cioè che io vado a interrogare non attraverso un software ma sfogliando un indice un faldone oppure un cassettino da cui escono delle schede in ordine alfabetico e in ordine di data ad esempio questa la saltiamo questa anche no vabbè questa la voglio vedere quante me ne mancano no ok saltiamo fino adesso abbiamo parlato di diritto d'autore al singolare ma in realtà diritti d'autore sarebbe più appropriato cioè al plurale perché quando l'autore acquisisce diritti li acquisisce in toto secondo questo schema che è volutamente un po' come dire fitto quindi non voglio andare nel dettaglio vi faccio vedere però semplicemente la sua gerarchia la sua struttura e come vedete il diritto d'autore italiano che è quello figlio del modello francese che è a sua volta figlio dei principi della rivoluzione francese dell'illuminismo vedete che prevede una parte di diritti che è di tipo personale cioè dei diritti morali d'autore cioè l'autore ha un legame con la sua opera che è anche di carattere morale reputazionale e quindi la legge prevede tutta una serie tre quattro case di diritti in cui l'autore può agire in giudizio per tutelare non tanto l'aspetto economico patrimoniale quello che abbiamo detto della remunerazione dell'autore ma l'aspetto morale reputazionale e poi ci sono invece quelli più classici diritti di tipo patrimoniale sono quelli che hanno proprio quella vocazione che dicevamo prima di garantire una remunerazione economica agli autori il modello angloamericano quindi quello di copyright sostanzialmente prevede solamente questa parte qua quella patrimoniale perché i diritti personali morali ed autore nel mondo angloamericano figlio del copyright della regina Anna d'Inghilterra non hanno questa sfumatura ed è comprensibile vi dicevo prima copyright nasce per regolamentare un settore industriale il diritto d'autore nasce per attribuire a delle persone che di lavoro fanno i creativi una serie di diritti fra cui c'è anche l'aspetto appunto morale reputazionale che gli inglesi e gli americani non percepiscono e come vedete adesso tolte queste due colonnine qua a destra che insomma sono un po' dei casi a sé le due colonne principali sono i diritti esclusivi di utilizzazione economica che sono quelli dell'autore in senso proprio quelli che abbiamo detto che durano 70 anni dalla morte dell'autore ma poi ci sono i diritti cosiddetti connessi connessi a cosa connessi a questi cioè connessi alle opere creative nel senso che appartengono a dei soggetti che non sono autori se leggete qua io parlo di produttore di fonogrammi produttore di opere cinematografiche audiovisive artisti interprete esecutori cioè tutti i soggetti che di lavoro non fanno davvero i creatori dell'opera perché se voi andate a vedere un film al cinema che è l'autore del film bravo il principale autore è il regista non è l'unico chi è che può essere un altro autore del film oltre al regista no produttore è colui che finanzia l'opera della registrazione ed è esattamente un titolare di diritto connesso esatto principali autori di un film e anche eventualmente l'autore del soggetto cioè se la sceneggiatura è tratta da un libro Harry Potter grande classico la Rowling è coautrice anche dei film anche se lei ha scritto magari non ha messo bocca sui film penso di no perché probabilmente è stata coinvolta però se anche lei non ha messo le mani perché magari in quei casi in cui il film viene tratto da un autore che è morto da un libro di un autore che è morto l'autore non mette è morto non può mettere bocca su quello che viene fatto nel film ma è coautore del film e in Locandina lo vedete tratto da e devono metterlo cioè non è una eleganza è una questione giuridica bisogna riconoscere la paternità all'autore il produttore come dici tu invece è colui che finanzia e che coordina la realizzazione del film come prodotto non come opera e quindi è titolare di un diritto connesso ma quante volte noi siamo andati al cinema e abbiamo detto vado a vedere ah sì il film con DiCaprio cioè identifichiamo il film con il suo interprete principale no e quindi in realtà DiCaprio non è autore è interprete cioè è il principale interprete è quello che ci mette la faccia è quello che probabilmente è stato pagato di più anche no magari la sceneggiatura è una ciofeca totale il regista non è particolarmente famoso però c'è DiCaprio mi piace vado a vederlo lo stesso no e quindi lui giustamente prende la sua parte in questa macchina di mercato per cui insomma chi sposta i soldi poi viene remunerato ma non è autore quindi vedete che oltre ai autori in senso proprio nel concetto di diritto d'autore poi rientrano anche una serie di soggetti che fanno un'attività parallela ma che non è strettamente autorale quindi io mi devo ricordare anche di questi quando carico un film scusate un brano musicale su YouTube e YouTube mi dice non so se vi è capitato caricate un video mettete un video con sottofondo musicale so Cresima di Mio Nipote faccio il video gli metto sotto un brano musicale di musica classica quindi vabbè musica classica diritto d'autore è scaduto no metto Giuseppe Verdi metto Wagner insomma sono morti da più di 70 anni perché me lo bloccano? eh perché anche se è Giuseppe Verdi comunque qualcuno quel brano lì l'avrà suonato l'avrà cantato e l'avrà inciso e quindi ci sono anche questi da tenersi da ricordarsi e quindi arriviamo a questa situazione cioè voi adesso avendomi sentito parlare per un'ora e mezza ma cacchio ma allora sto copyright è sempre presente? sì esattamente perché la regola è questa è un copyright è un meccanismo che copre un sacco di di opere creative un sacco di e crea un sacco di diritti salvo poi cadere nel pubblico dominio però per fortuna così vi lascio senza l'angoscia addosso l'ordinamento giuridico ha già previsto una serie di eccezioni a questa regola generale del copyright del tutto riservati del tutti i diritti riservati non possiamo vederle tutte vi ricordo solamente che per gli archivi ci sono una serie di eccezioni allora questa cosa ve l'ho già detta cioè che l'archivio più o meno rientra può essere associato ad una banca dati al concetto di banca dati e che gli archivi specialmente se pubblici godono di una serie di eccezioni al diritto d'autore quindi siamo qua una serie di eccezioni ecco l'ultima gamba non facciamo il tempo a parlarne sono le licenze Creative Commons cioè dove il libero utilizzo è stabilito dal titolare dei diritti cioè l'autore stesso o l'editore che vi dice puoi utilizzare liberamente l'opera ma ci deve essere la licenza che me lo dice in tutti gli altri casi devo andare a vedere se è la legge a darmi una eccezione di libero utilizzo e per gli archivi ce ne sono un po' non so le letture in pubblico di opere letterarie la fotocopia articolo 68 le opere orfane la messa all'esposizione del pubblico su appositi terminali delle biblioteche degli archivi articolo 71 ter e poi la nuova direttiva ne introduce di nuove ne abbiamo parlato insomma andate a vedere il video che adesso riusciremo spero a editare ce ne sono alcune perché appunto gli archivi rientrano nella definizione di istituti di tutela del patrimonio culturale che è il considerando 13 della direttiva per i quali appunto sono previste nuove eccezione al diritto d'autore qua ci sono i riferimenti social vi ho detto mi seguite se volete rimanere in contatto con questi temi e grazie siamo in perfetto orario sono le 10.08 due minuti per se vogliono fare domande grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.